Oggi 9 luglio 2017, questa è la pescata di un chilo di pesce fatta ieri 8 luglio nel mare di Trapani. La pescata di un'esplodione, questa è la pescata di un'esplodione, I fritti poco fa erano da friggere, la signora Rosa ha fatto il pesto alla trapanese, questo è quello che è rimasto, pasta con l'aglio alla trapanese Grazie a tutti ah no, quello ci metti pesciolino alla pasta, bravo la signora si che se ne intende ah si, non lo sa, non lo sa un anno e niente questo è metà di quel bel pesce da me pescato alla facciazza di Napoli perfugio grazie a tutti